Ma... ho iniziato a registrare e cosa succede? Tutto nero? Cos'è accaduto? Ma voi non... Quanto indietro siamo tornati? Ma voi siete tutti morti? No, aspetta, aspetta, c'è qualcosa che non va. Carichiamo che qua... Cos'è sta roba? Io non ho capito perché ogni volta che vado da qualche parte mi si attiva la lentezza. Ah, buongiorno, buongiorno! Buongiorno! Come va? Cosa fa? Piffera? Ma chi si rivede? Signorina Fea, come va? Come va? Sempre montolo qua, c'è. Tanto si faccia gli affari suoi. Uno e due, si faccia gli affari suoi. Beh, avventura! Cosa, 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 cosa? Buongiorno! Allora? Vi pare? Che è questo qui? Un cultista? Ma è uno di quelli lì che fa palestra? Ale! Cosa succede? Ma questo qui è un mago! È la madonna! Sono fortissimo! Ma che bella maschera, me la ciulo! Ho comprato la Mega Ultralimited di Skyrim! Parla con Hound! Ah beh, grazie! Cosa succede? Cosa succede? Ma porca troia, ma è sempre qui, draghi? Arrivo! Cosa succede? Slitta? Venghi, venghi! Perché mi ero dato 5 di taglia? Ho ucciso un pollo! No! Ma c'era bisogno di dirmelo? Ah, porca troia! Ho la spada laser meno tagliente della storia. Aia, che male! Ale! Andato! Arrivederci! Tac! Come ho non detto, mi aspettavo di trovare qualcosa di utile. Si leva quello lì che sto registrando? Chi ha detto che Skyrim è noioso? Che cazzo c'aveva dentro questo pollo? Ma com'è possibile? Come mai tutti i polli c'hanno dentro un'armatura da Edrica? Sono forse i polli frutto di Satana? Sono forse dei demoni venuti dal passato per ucciderci? Sono segretamente pronti a distruggere l'umanità? Oh beh, io ci ho guadagnato delle bellissime frecce! Ma che cosa ho combinato? Cosa c'è? Ma allora? Ti ho! Ho sfinito i polli, aspetta! Buono! Buono! Ale! E non sta tranquillo? Ma scusa, c'ho il tiro automatico? Cosa c'è? Cosa vuole sta mucca? Perché se mi si mette... Allora? Scusa! Aia! Sono inciampato! Ma io mi ero dimenticato di raccogliere delle armi importantissime! Tutto a posto, signora? Tanto sia tranquilla con i termini! Buongiorno! Eccole lì! Dual wielding! Mazza! Poi c'era anche lo scudo, eh! Prego, prego! Prego, prego! Allora? Prego! Poi c'era anche lo scudo, però purtroppo... Allora? Scusi? C'era anche lo scudo, però non me l'ha raccolto io, non lo so! Voglio assolutamente provare cosa... Tipo, se io schiaccio un pollo... Ma scusa, scusa! Io non la vedo bene lei, si dovrebbe fare una visita! Ma! Ma questi qui sono polli normalissimi! Ma che storia! Non hanno l'armatura! Il mistero si infittisce! Ma se io ad esempio uccido questa capra... Non ci ho preso! Ah, non ci ho preso! Ma non gli faccio niente! Ma una capra è immortale? Ma com'è possibile? Allora? Ma i polli li uccido! E i cristiani? Ma non fa niente! Ma che cazzo? Allora? Dicevo, ma se io ammazzo una capra... Come prezioso? Cosa c'è? Ah, merda! Ma è una normalissima capra! Perché solo i polli sono magici? Dica! Ho commesso crimini contro Skyrim e la sua popolazione! Sì! Cos'hai da dire in tua difesa? Eh, scusami! Sono il Tain dello... Eh, sì! Sono... Ti chiedo scusa! Ah beh! Non mi ero accorto che fossi... Faccia di cazzo! Questa volta faremo finta di niente! Porta rispetto! Anche l'influenza dello Yarla! Allora! Ha più attenzione in futuro! Ma così! Minacci? Fila via! E niente! Questo pollo aveva l'armatura da Edrica! Questo mistero non avrà mai fine! Boh! Visto che qui piove io direi di levarci dei coglioni! E andiamo al nord! Sempre bello aspettare sopra un cavallo! Oddio! Cos'è successo lì? Boh! Mi spiace! Cos'è? Cos'è accaduto? Oh no! Bono! Bono! Ma non c'è la ritromarcia sto cavallo? Allora? No! Su! No! Allora... Beh! Non si guida! Non si guida! Piano! Buono! Buono! Ah! Non si è fatto niente! Ottimo! Qui ci starebbe giusto un po' di musica cattivante per la cavalcata! No! Basta che se no ci bloccano per copyright! Vieni qui! Ti prendo! Allora! Ale! Vediamo di sventrare la nostra preda! Chissà che cazzo mi aspettavo! Ho sbagliato completamente! Dovevo andare... Più in qui! Bello che il posto da cui sono partito in teoria è quello da dove devo arrivare! Non lo so! Dove cazzo si va? Era qui che dovevo finire? Ma qui c'è un casino della madonna! Chi è stato? Cosa succede? Giocattoli rotti! Madonna! Cosa... Cosa sta succedendo? Mi cago addosso! Un mistero nanico! Credo! Non lo so! Siediti! Va bene! Molto divertente! Ma sei scevo? Ma porca troia! Sono abbastanza sicuro che mi sto imboscando in un posto dove non dovrei andare! Salve! Ma se siamo cagiti uguali? Pelle liscia a chi? Aia! Crettino? Aia! Io mi sono rotto i coglioni e vado via! Dov'è chi si esce? Dov'è chi si esce? Giorno disturbo! Era aperto! Eh ma ancora? Cosa succede? Ma guarda te! Ho fatto casino! E la madonna! Quanto pericoloso! Ciao Crash! E madonna! Mi dispiace! Quanto siete impavidi però! Va avanti così all'infinito? Forse posso spegnere! Aspetta! Ah sì! Però con le porte chiuse! Hai lasciato fuori il Dovabit! Ehm! Ok! Signor cavallo di gatto! Sembra che non riusciamo a trovare quello che cerchiamo! Prima o poi troveremo il nostro posto nel mondo! Oppure siamo stronzi e non abbiamo caricato tutte le mod! Ma subito così? Buongiorno! Buongiorno! Ah salve! Aio! Signor Avel posso dirle che lei è un gran maleducato? Dark Soul? Dark Soul paro? Aio! Come non detto! Arrivederci! Allora? Ma porca miseria! È un problema questo? È un problema! Ma allora è un vizio! Quanti! Quanti! Cosa? Cosa sta succedendo? Ah giusto! Questi qui sono due pet! Ma quindi si parcheggiano o girano in giro per girare in giro? Per quanto io sia una semplice serva non pensare neppure che svolga i miei incarichi con una dedizione minore a quella dello Yarla! Ok! Ne sono sicuro signora! Ma! Lei è una maga! Mi scusi ma avete tenuto il povero Venici qui morto? Mi scusi lei signor loquace! Mio padre dice che sono troppo giovane per allenarmi con una spada! Probabilmente! Mi alleno con i pugni! Ah! Va bene! Ah vedi che... Ma che cazzo c'ha in tasca? È pericolosissima quest'arma qui! In realtà non saprei come finire questo video! Qualche idea Crash? Gli Kajiti ti guarda le spalle! Ok! Grazie e arrivederci! Wow cazzo! Ah! È proprio bello! Non c'è nessun posto come casa!